Il mio più grande sogno nel cassetto è quello di fare volontariato, andare in Africa con i Medici Senza Frontiere e aiutare le popolazioni, i bambini soprattutto, che non hanno niente. La mia paura più grande è quella di non riuscire a realizzare il mio sogno, di non essere soddisfatta della mia vita.